Prima di iniziare con il video ragazzi, come al saluto vi ricordo di utilizzare il mio codice supporto a un creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Tutto attaccato Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi Ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite perché abbiamo una missione importantissima da portare a termine Infatti quest'oggi siamo qui col Brutus Spettri per andare a conquistare la grotta Che è comandata dal Brutus Ombre Un po' come ho fatto l'altro giorno con il signor Mida, che io ho a versione Ombre E siamo andati a conquistare l'agenzia che invece è comandata da Mida, versione Spettri Quindi mi raccomando ragazzuoli, per un altro episodio del genere lasciando un bel mi piace Perché a 20.000 like andremo a fare la stessa cosa con Sky Che io ho a versione Ombre e in mappa è versione Spettri Sì, per esempio ho scelto tutte le skin dei boss al contrario di quello che poi sono state nella mappa Senza farla apposta dall'altro Quindi mi raccomando ragazzi, 20.000 mi piace che andremo a fare con Sky Allo squalo appunto Ma io vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto Controllate di essere iscritti ragazzi Perché io vi ricordo che questo qui è il mio secondo canale su YouTube Quindi potreste non essere iscritti perché magari vi siete iscritti solo al primo canale Quindi controlla di essere iscritti e se non lo siete iscrivetevi Vi do 5 secondi per il 5 4 3 2 1 Spero per voi vi siete iscritti anche perché si dice che chi si iscrive qui sul mio secondo canale su YouTube Riesca a vincere su Fortnite più facilmente Ora andiamo a mettere pronto e andiamo a conquistare questa grandissima grotta che attualmente è versione Ombre Ok ragazzi, il taglio è onesto alla fine perché la grotta non è uno dei primi posti in cui la gente può scendere Però comunque è sempre un posto dove l'autobus ci passa praticamente sopra Quindi io prevedo che almeno 3-4 persone ci vengano e quindi dobbiamo stare molto molto attenti La nostra missione è semplice ragazzi, uccidere Brutus o comunque in generale prendere la sua minigun E ovviamente svaliggiare il loro capo Vedendo un attimino poi cosa riusciamo a fare anche per quanto riguarda il resto della partita Ma fondamentalmente la nostra missione è quella Ok, la safe che ormai come sapete è impazzita non preclude la grotta fuori Quindi siamo dentro e come previsto ragazzi un po' di persone stanno arrivando purtroppo Ve l'avevo detto, non era proprio il migliore dei tagli Però almeno ci permette di non essere troppissimi Spero che non siamo 28 miliardi ragazzi Perché potrebbe diventare un problema Allora questo Lo proviamo a killare così Un paio di colpi che li abbiamo dati e magari adesso muore giù con gli scagnozzi Noi il minimo indispensabile l'abbiamo trovato Vorrei trovare giusto degli scudini ragazzi Un paio di scudini non mi farebbero schifo Però purtroppo niente Va bene ragazzi scendiamo Prima di continuare con il video ragazzi volevo parlarvi nuovamente di Boosteroid Che per chi non lo avesse ancora bene in mente di cosa si tratta È una piattaforma cloud gaming che vi permetterà di giocare al massimo delle prestazioni I vostri videogiochi preferiti Tra cui Fortnite, FIFA, GTA, ce ne sono davvero tantissimi Vi lascio il link in descrizione per andargli a dare un'occhiata Sappiate che costa 4,16€ al mese L'abbonamento base Altrimenti ce ne sono anche altri che costano di più Ma che ovviamente sono più vantaggiosi E vi legano a loro per più tempo Tra le altre cose Io vi ricordo che giocando appunto sulla loro piattaforma E quindi avendo le prestazioni potenziate Avrete anche meno rotture di scatole per quanto riguarda la connessione Perché se ci mettete tantissimo per scaricare un aggiornamento Ci mettete tantissimo per scaricare un gioco Con Boosteroid non avete problemi Perché giocando sui loro server ci pensano loro a scaricare aggiornamenti I giochi e quant'altro Il contest per provarlo gratuitamente per qualche ora È ancora in atto sul mio profilo Instagram Quindi venite messi su Instagram per saperne di più Io adesso vi lascio il video E vi auguro una buona visione Uh, c'è già qualcuno qui? Madonna raga Con sta scala messa qui così me l'ha fatta sudare eh Con questa scala messa qui così me l'ha fatta sudare abbastanza Che poi chissà lui a chi stava sparando Se a un'altra persona o c'era uno scagnozzo qui dentro Perché comunque l'ho sentito sparare prima di intervenire Ma non mi prende gli scildini Eh non mi prende gli scildini Che bello questo gioco ragazzi Ah tra l'altro mi stavo facendo le bende quando c'era lo scudo Eh il medikit Raga eh io spacco tutto Non me le prende Ok perfetto Tra l'altro era solo uno a saperlo Lo lasciavo lì Vabbè comunque a parte questo bug dei mini shield Adesso ci facciamo anche il medikit che non avevo visto Mi stavo semplicemente sbrigando a farmi le bende Siamo anche in safe quindi abbiamo tempo Il problema è che ne abbiamo perso parecchio eh Già ne abbiamo perso parecchio Quindi ci dobbiamo sbrigare Allora Io mi vorrei tra l'altro Ritravestire perché Ci semplifica di molto Ci semplifica di molto la missione travestirci Quindi Andiamoci a travestire Sperando che nessuno ci spari Ok perfetto Dovrebbe essere andata Andiamoci ad aprire l'altra cassa E poi andiamo a cercare Brutus Ok Eh tra l'altro anche altri mini shield Ma io ormai mi ero Mi ero messo quelli che avevo trovato Quindi va bene così Uh Barret Qualcuno mi sa che sta già andando da Brutus Io a questo punto andrei Tra l'altro ho laggato da morire Sì sì ragazzi Stanno sparando Con Brutus Mi sa Eccolo lì Perfetto raga Perfetto Ci prendiamo il Barret Dove l'ha lasciato? Ma dove l'ha lasciata la mini can di Brutus? No raga Non posso andare avanti Senza la mini can di Brutus Aspettate Mi travesto un attimo Almeno non mi rompo Nel scato di scagnozzi Ma no raga Cioè c'aveva la mini can Viola Dov'è quella Di Brutus dorata? No raga Non ho parole Cioè non l'ha presa Fatemi capire E soprattutto adesso Dove l'avrà ucciso Brutus? È quella anche la vera domanda Mannaggia la miseria Raga Ma si può? C'aveva la Ah eccola Per fortuna Va bene Eh vabbè Lascio il Barret ragazzi Non è che possiamo tenerci 28 miliardi di armi Va bene così ragazzi Non avremo ucciso con le nostre mani Brutus Ma comunque abbiamo conquistato la grotta Che era quello che ci interessava ovviamente Quindi Apriamo adesso subito tutto questo Ben di Dio ragazzi Che Mamma mia Con che loot stiamo per uscire dalla grotta signori Quindi ci mettiamo anche lo scudo ovviamente per fullarci Mi tengo anche i medikit Vediamo se troviamo qualcos'altro di Ancor più interessante qui Forse no Ma ragazzi devo dire che Siamo veramente a cavallo Altro scudo tra l'altro Che mi tengo al posto dei mini shield Sì va bene E niente Raga possiamo uscire Andiamo anche verso Moli molesti Ci sbrigiamo Per trasformare il fucile d'assalto pesante In scar Che ci conviene E poi vediamo se riusciamo a portarci a casa questa partita Tra l'altro siamo già in 18 ragazzi Siamo già in 18 Cioè siamo pochissimi siamo Veramente Assurdo Va bene Ok comunque sì In 4 minuti dovrei fare in tempo A fare quello che voglio fare Qui vabbè altro loot Ma direi che siamo messi ragazzi talmente tanto bene Che ecco Oltre giusto a trovare altri shield Non ci serve veramente altro Anche in materiale siamo messi molto molto bene Quindi top Ora in realtà Qui a Moli Molesti Vedo delle build Cioè hanno buildato Quindi hanno fightato e tutto Quindi Dobbiamo stare Molto 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 attenti E proprio perché c'era gente Io direi di coprirci Mentre Trasformiamo Eh beh Il fucile d'assalto pesante In scar Perfetto ragazzi Ora siamo a cavallo Magari andiamo verso la safe Così siamo più tranquilli Stando però attenti Ovviamente alle spalle Perché Ribadisco Mi sa che c'è venuto più di qualcuno Qui a Moli Molesti Eh Quindi stiamo attenti Ragazzi siamo già a 13 Siamo già a 13 Con una safe del genere Ma di che stiamo parlando Tra l'altro qualcuno È anche Ma sto avvenendo build ovunque In realtà Cioè Sono passati ovunque Questi che sono venuti A Moli Molesti Va bene Ok Buon a sapersi Ragazzi Io a sto punto Siamo rimasti in 10 La safe è immensa Si sta per chiudere Mentre aspetto che Se chiude la tempesta Pesco un po' Anche perché Come vedete Ce l'ho come sfida giornaliera E mi porto un po' avanti Sinceramente Anche perché magari Se riesco ecco A pescare un po' di flopper Preferisco i flopper Al 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 medikit Allora ho visto Un altro punto di pesca lì Quindi mi tiro il flopper là E andiamo a continuare a pescare Eccolo lì Il punto di pesca Vediamo se l'ho preso Nì Siamo anche in safe ragazzi Siamo anche in safe Quindi Cioè siamo in safe Per modo di dire Ma siamo veramente a cavallo Tra la safe e fuori Eh il predibba pesce pure Non è male eh Ora da capire se questo Ma l'elicottero viene dalla grotta Ragazzi Quindi alla fine Qualcun altro Era andata alla grotta Ragazzi Uh Ci ha provato col barret Signori Ci ha provato col barret Dobbiamo stare attenti ragazzi Perché questo tipo Qui c'ha il barret E non ha intenzione Di pusharmi E' quello il problema Allora proviamogli A rompere un po' le scatole Con Con la minigun Ok un po' di hit Gliel'abbiamo tirate Il problema adesso sta nel capire Se è riuscito a ricaricare o no Il barret Perché se non l'ha ricaricato Io posso pusharlo più tranquillamente Ma non credo l'abbia ricaricato Eh scusate Scusate Cioè scusate un attimo Come ha fatto A curarsi così tanto Dopo tutte le hit che gli avevo tirato E l'ho pushato subito Tra l'altro Vabbè Comunque detto questo Ragazzi ce l'abbiamo fatta L'abbiamo chillato Non spreco il prelibapesce Raga Mi faccio direttamente Il doppio scudo Anche perché ho visto Che lui ne aveva altri di scudi Quindi evidentemente Così si era riuscito a curare Però pensavo di avergli fatto Molto più danno Siamo rimasti in sei raga Cioè non Veramente penso sia Una delle partite Più rapidi Che io abbia Più rapide Che io abbia mai giocato Mi giuro ragazzi Cioè non A memoria Non riesco a ragionare Una partita Che sia stata Ancor più veloce di questa Comunque sapete Che vi dico Al posto dei due scildoni Io probabilmente Mi porto i flopper Mi sto per dire Una cosa clamorosa Però probabilmente Sì Così c'ho i pesci E in caso Di brutte storie Riesco a curarmi Molto più rapidamente Ci può stare Come scelta Vediamo un po' Se si rivela giusta E Tra l'altro Che è la terza safe Che si chiude Ribadisco Cioè veramente Andando a memoria Non riesco a ricordarmi Di una partita Più rapida di questa Incredibile Altro elicottero Non so se ci vuole Pushare Eh forse si Uh e tra l'altro Madonna se ci vuole Pushare Cioè proprio Con un'aggressività È arrivato Sto tipo Invidiabile Cosa Ma Ma dov'è Eh vabbè Eh ciao Ragà non ho mai Minimamente capito Dove stava Ma mai eh Non l'ho minimamente Mai capito Come ha fatto Hittarmi Da dove Non mi ha fatto capire Niente questo qua Ragazzi GG Niente ragazzi Dopo aver trovato Il fenomeno di turno Ritentiamo la fortuna Tra l'altro io devo ancora Capire dove lo vede Fortnite Il matchmaking Basato sulle skill Perché Boh veramente Ragazzi Io ogni tanto Mi becco Certi fenomeni Che dico O c'hanno un secondo account Ma anche lì ragazzi Sempre per quanto riguarda Lo skill base Dovrebbe basarsi Il matchmaking Però Vabbè Non capisco Ragazzi Non capisco Cioè nel senso Il matchmaking Dovrebbe basarsi In questo modo Anche se sei un livello 20 Potresti tranquillamente Beccare un livello 400 Perché il gioco Dovrebbe rilevare Le tue reali skill base Vedere come costruisci Come spari La tua precisione Eccetera E metterti contro Altre gente Del tuo livello Ora Ultimamente Questa cosa L'avevano tolta Soltanto nella modalità squadre Però a questo punto Mi viene il dubbio Che l'abbiano tolto Anche in singolo Perché non si spiega Io ogni tanto Becco gente Che è veramente troppo Più forte di me Comunque raga Detto questo Riproviamoci Travestiamoci E Riendiamo giù Alla grotta Ok Questo primo loot Iniziale Devo dire che Non è per niente male Perché almeno Siamo un po' shieldati Abbiamo comunque Il fucile a pompa E Attenzione Abbiamo anche il barret Qui ragazzi Abbiamo anche il barret E vi dirò Dato che il fucile assalto Nella parte Iniziale Della grotta È abbastanza inutile Io vi dirò Che rimango con La mia carissima Mitraglietta Quindi lootiamo Il più possibile Tra 5 secondi Scopriremo La prossima safe Un altro barret Tra l'altro Vabbè Comunque mi metto Lo scudo Vediamo la safe Dove va Vabbè Prendete qui Quindi si Dovremmo avere Abbastanza tempo Per No Stai al tuo posto Ok perfetto Perché io vi ricordo Ogni volta Che se lo scagnozzo Poco poco Ti tocca Perdi Il tuo Travestimento Ora Io non sento Sparare Non sento Nessuno Però sinceramente Mi sembra molto Strano che non sia venuto Nessuno Alla grotta Mi sembra Così strano Vabbè Noi comunque Continuiamo a farci Gli affari nostri Cercando Brutus Cerchiamo Zitti zitti Brutus E vediamo un po' Dove si nasconde Però raga Prima di fare ciò Io direi di trasformarmi Immediatamente Questa bella arma In Scar Prima di tutto No non ho il metallo Allora facciamoci il metallo E adesso possiamo Trasformarcela E siamo già a cavallo Il problema Ribadisco è capire Se effettivamente c'è qualcuno O no Niente raga Lo Scar l'avrei trovato Anche dentro questa cesta Vabbè rip Comunque Cerchiamo sto dannatissimo Brutus Oh eccolo lì Brutus Ok perfetto Non trovavo Brutus Raga Che ribadisco È lui l'obiettivo Della nostra missione Mannaggia la miseria Quindi Uh eccoti Ciao signor Brutus Perfetto Ora me lo vado a prendere Raga tranquilli No eh Non mi apre più qua Giusto Mannaggia Mi sa che ho fatto una cavolata Ad ucciderlo Al di là della porta Oh Non mi builda qui Ma perché non mi builda Ma dove è andato Brutus Ma dove è andato Brutus No non ci credo Che l'hanno rianimato Ok Ok Aspettate Aspettate raga Perché in realtà Vorrei cambiarmi adesso Prima di Di continuare A lutare E fare tutto Però mi sa che non ce la Non facciamo in tempo A ricambiarci Niente A parte questo problemuccio Che abbiamo avuto con la porta Che Brutus è morto Al di là Eccetera Ci siamo riusciti Abbastanza easy Eh Aspettate raga No Aspettate Aspettate No mi devo ricambiare Mi devo ricambiare Mi conviene troppo Mi conviene troppo Ricambiarmi Ok Fermo lì Non mi sparare Sono tuo amico Perfetto Uh Raga Eh La grotta ogni tanto Diventa complicata Prover questo Perché ha 3000 porte Le potete sbloccare Soltanto Se siete travestiti O con Uno scagnozzo in mano Quindi rip Vabbè Comunque Ce l'abbiamo fatta Adesso dobbiamo cercare Soltanto di fare una partita Decisamente migliore Rispetto a quella di prima Le armi le abbiamo Quindi Speriamo bene ragazzi Dipende solo da me Dipende Abbiamo pure lo scudo Quindi ci rifulliamo Ok Ok raga Perfetto Ce ne possiamo anche Andare Non ci interessa più Di nient'altro Abbiamo un loot assurdo Come prima Tra le altre cose Adesso Pensiamo soltanto Ad entrare in safe E provare a vincere Questa volta Tra l'altro ragazzi Molto molto strano Che non era venuto Nessuno alla grotta Cioè Penso sia una delle prime volte Che vengo alla grotta E non trovo veramente nessuno Però almeno la partita È un po' più normale Rispetto a quella di prima Perché cavolo ragazzi Cioè Prima sono uscito dalla grotta Che eravamo già in 13 Adesso almeno siamo 20 Quindi abbiamo la possibilità Di fare qualche kill in più Poi Dato che c'ho anche la missione Ragazzi Pesca i pesci Ne approfitto Per pescare un po' di pesci Più che altro Vorrei un paio di prelibba pesci Ragazzi Se trovo un paio di prelibba pesci Siamo a cavallo Non sarebbe per niente male Niente Ci dobbiamo accontentare Dei flopper Vediamo se c'è qualche altro Punto di pesca E peschiamo Si eccolo là Uh ecco il primo prelibba pesce Mamma mia se ne trova un altro Mi emoziono Top Dopo regà Doppio prelibba pesce L'ho quasi chiamato ragazzi L'ho quasi chiamato Abbiamo fatto anche il livello Molto molto Ma lì c'è qualcuno che si sta Ma veramente Ma dove sta andando Quel tipo Ma io in realtà Non gli voglio neanche sparare Perché se poi mi pusha Ha il vantaggio dell'altezza Se dovesse andare verso qualche montagna Ma Dobbiamo stare attenti Allora Questa roba Sinceramente La ributto lì dentro Così magari la gente Non la vede Faccio anche così Lascio giusto i mini shield E niente raga Ok Tra l'altro Tra una cosa e l'altra Giusto il tempo di pescare Siamo arrivati già in 15 Va bene No raga Eh non ci credo Mi ha pure laserato No Mannaggia Però abbiamo tolto parecchio Anche noi Niente ragazzi Niente Oggi mi stanno facendo un Eh 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 Avete capito Che non ho Veramente non riesco Non lo so Ma non credo neanche Di essere io A non riuscire a giocare È che sto beccando Gente veramente forte C'è nulla da dire Veramente GG a loro ragazzi Non posso farci nulla Se becco gente di questo livello Veramente Non ho le armi Non ho le potenzialità Per giocarmelo contro di questi Anzi che a questo e quelli Abbiamo fatto anche un sacco di danno L'abbiamo intato un sacco Con la mitragliatrice L'abbiamo intato un bel po' Con il fucile a pompa Però ovviamente si è curato sopra Io non so più riuscito a hittarlo E addio Comunque raga Spero che il video vi sia piaciuto lo stesso Noi per ben due volte Siamo riusciti a conquistare la grotta La prima un po' più in maniera complicata Perché c'era altra gente La seconda non c'era nessuno Siamo andati tutto Abbastanza tranquillamente Mi raccomando Vi ricordo di utilizzare il mio codice Supporto a un creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite Lasciate un bel mi piace Perché a 20.000 like Andremo a fare lo stesso episodio Anche con Sky Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Per me è tutto Ci vediamo domani Con il prossimo episodio qui sul mio canale Ciao ragazzi E mi raccomando Vi ricordo di passare su Boosteroid C'è il link in descrizione Ma soprattutto Di venirmi a seguire su Instagram Perché lì c'è ancora Il contest in atto Per poter vincere Qualche ora di prova Gratuita Appunto Su Boosteroid Grazie a tutti